Per noi è un piacere accogliervi qui questa sera per questo evento, questo evento che si chiama Kickstar, un po' strano, perché l'abbiamo chiamato Kickstar? L'abbiamo chiamato Kickstar perché Kickstar rappresenta qualcosa come un calcio di avvio, per esempio una partita di calcio o la messa in moto di una moto, per cui è un avviamento e riteniamo che questo avviamento sia talmente importante perché ci siamo accorti che molta gente pur conoscendo la parola di Dio così non è avviata, conosce bene la parola di Dio ma è restata lì dov'è e la parola di Dio non ha azione nella sua vita e adesso questi insegnamenti così come lo è stato anche per me e per tanti altri di noi desideriamo veramente che ci sia questo avviamento in ognuno di voi. Che cos'è un Kickstar? È una serie di insegnamenti, è vero, sentirete tanto parlare, ma hanno una differenza rispetto agli insegnamenti normali, che c'è una messa in pratica. C'è una messa in pratica e c'è anche, diciamo, qualcosa che toccherà i vostri cuori, che vi porterà a chiedere dove è il mio cuore, dove si trova, rispetto a quello che dice la parola di Dio, quello che mi chiede di fare. E attraverso Kickstar vedrete dove è il vostro cuore e sarete anche attivati e per essere attivati dovrete fare, dovrete imparare a fare cosa? A fare ciò che la parola di Dio ci dice di fare. Quello che vi proponiamo è nato da un evangelista noto in Danimarca, Torben Sondergaard, è lui che ha creato questo movimento, ma voglio precisare, noi non siamo seguaci di Torben, noi condivisiamo la visione che lui ha ricevuto, questa visione è nella linea della parola di Dio, per cui vi invitiamo veramente, tutto quello che voi sentirete qui in questi giorni, andate a verificare nella parola. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro, che non capite, che sentite, che magari non avete mai interpretato in questo modo andate a verificare nella parola. Non prendiamo un versetto così tanto per prenderlo, noi crediamo che la somma della parola è la verità e questo è importante. Vorrei presentare un po' alcuni membri dello staff, faccio un'ulteriore premessa, questo Keystar si situa all'interno di una scuola che noi definiamo la Pioneer Training School, la PTS, che è una scuola di addestramento di Scepoli e che sta avendo luogo proprio in questi giorni qui a Stabio, dal 5 al 26 agosto, e all'interno di questa scuola proponiamo appunto un evento di questo tipo, di un Keystar. Vorrei presentarvi i nostri studenti, Paolo, no ti puoi semplicemente alzare così li conoscete, Jordan, Sicilia e Maurizia. Poi io sono Enrico, membro dello staff, come Davide, che era qui, che vi ha condotto nella Lode, mia moglie Lorenza, che alcuni di voi conoscono già, Albina, Ingrid, Giuseppe, che anche lui è con noi in questo periodo, e poi abbiamo Yuko, che è appena arrivata fresca fresca da Milano, e lei la PTS, questa scuola l'ha già fatta nel mese di aprile. Benvenuti dunque alle persone che ci hanno fatto visita. Poche persone? No, il numero giusto, quello che il Signore ha deciso che fossero qui presenti. E poi, scusate, importante, Alessandro. Noi siamo qui grazie a Alessandro, perché Alessandro ha messo a disposizione questa sala, ma ancora ha messo a disposizione la sala, o meglio la casa, in cui abbiamo questa scuola PTS. Alessandro, puoi alzarti. Ecco, poi si fa usufruire appunto della tecnologia, così che comunque, se c'è, vale la pena di utilizzarla. Alessandro, puoi alzarti. Alessandro, puoi alzarti.